Musica Circa 15 giorni fa, proprio su questo canale, se non sbaglio era una serata di mercoledì, è stata mandata in onda la quinta e ultima puntata della riduzione televisiva di un importante complesso romanzo russo dell'Ottocento. Mi riferisco al che fare di Cernisevski. Vedete qui sul nostro teleschermo i due volumi dell'edizione tascabile pubblicata dagli editori riuniti a cura di Ignazio Ambrogio. Per quella sezione ideale che noi conveniamo di chiamare tra noi e con voi, spesso biblioteca della nostra rubrica, riservata a qualche suggerimento di lettura di libri già classici, vogliamo parlare oggi appunto di Chefare e di Cernisevski insieme al regista Gianni Serra, il regista per l'appunto della fortunata riduzione televisiva. Che cos'è questo romanzo? Quando è stato scritto? Di che cosa parla? Quante domande. Quante domande in una sola. Ma è stato scritto nel 62, nel 1862, quando Cerniceschi era rinchiuso nella fortezza di Pietro Paolo. Questa è stata la prima domanda. Era una prima domanda. Poi? La seconda di che cosa parla in sostanza? Quale, diciamo, tematica affronta? Beh, anche questo è molto, sarebbe molto lungo da rispondere. Cioè, brevemente, comunque, i contenuti del romanzo sono soprattutto incentrati sulla coppia, cioè su un rapporto nuovo della coppia, sul superamento dell'istituto familiare, sulla nuova organizzazione di vita di coppia. Dopodiché si affrontano anche una serie di problemi che riguardano un'organizzazione nuova del lavoro in senso cooperativistico. Cioè, è un romanzo che anticipa tutta una serie di tematiche molto attuali, molto moderne. Certo, di più di cent'anni, come la data di stesura e testimonia. E tra l'altro è un romanzo singolare perché l'autore, se non ricordo male, non era un narratore, diciamo così, di professione, ma era piuttosto un grande critico letterario, un sociologo, diremmo oggi, della letteratura. E questo è il suo unico romanzo, tra l'altro, se non sbaglio. Un romanzo politico, un rivoluzionario, tra l'altro. Certo, certo. Perché, appunto, era in fortezza scritto questo romanzo per le sue attività politiche. Esatto. E questo romanzo, si dice, nella tradizione, nella leggenda, anche in qualche modo che lo circonda, è un romanzo che ha formato molti decenni dopo, naturalmente, molti rivoluzionari, no? C'è addirittura una battuta di Lenin, se non ricordo male, che dice, questo romanzo mi ha profondamente mutato. Come mai, come mai, come spieghi tu che a metà degli anni 50, della metà dell'Ottocento, quest'uomo potesse scrivere un libro in fondo così profetico a livello di contenuti? Ma, indubbiamente, cioè, le idee che poi Cerniceschi ha organizzato nel romanzo, nel che fare, erano idee, evidentemente, che circolavano nell'aria, cioè che appartenevano ad un'elite di… Intellettuali. Sì, di intellettuali, di progressisti, cioè dei rivoluzionari d'allora. Il romanzo ha conosciuto un successo strepitoso dopo la sua prima pubblicazione, che fu immediatamente sequestrata dalla censura zarista. Un'enorme diffusione a livello clandestino, e non solo nazionale, cioè non solo in Russia, ma anche internazionale, cioè in tutti gli altri paesi. C'è vero che ci fu anche la moda, cioè i detrattori del romanzo, cioè quelli che accusavano di moralità Cerniceschi, in quanto appunto, dicevano, insegna alle ragazze a scappare dalla famiglia. Certo. Insegna… Il libero amore, si diceva allora. A abbandonare i mariti, a farsela con l'amico del marito e via dicendo. E ci diede proprio luogo a fenomeni di moda, cioè sempre secondo questi detrattori. C'erano le ragazze che si vestivano come viera… Come l'eroina del romanzo, diciamo. No, in giro con due uomini. Beh, questo però era significativo, che il libro aveva suscitato una grossa reazione. Certo, aveva suscitato un tipo di interesse, che rispondeva evidentemente a quelli che erano dei bisogni… A delle inquietudini reali. Bisogni che sono, tra l'altro, anche di oggi. Ecco, da un punto di vista letterario, non so se l'osservazione si è fondata, ma alcuni critici e alcuni slavisti hanno in passato sottolineato che questo romanzo ha, come dire, un andamento piuttosto faticoso e hanno fatto notare la sua struttura prevalentemente saggistica, dovuto al fatto appunto che Cernicevski non era, diciamo, di vocazione uno scrittore. Tu che l'hai letto, riletto, studiato, evidentemente a fondo, credo tu lo sappia quasi a memoria, in occasione della stesura, della sceneggiatura e poi per la regia. Pensi che questa osservazione sia fondata? No, io dico di no, assolutamente, pur non essendo un critico letterario, cioè uno specialista. Anzi, io ritengo che ci sia una notevole dose di malafede in questo discorso. Perché, in effetti, a mio vedere, ma non solo a mio vedere, ma a vedere anche di moltissimi altri, tra l'altro specialisti, il romanzo di Cerniceschi ha un'estrema importanza anche proprio da un punto di vista letterario, cioè strutturale. Cerniceschi capovolge completamente la struttura tradizionale del romanzo ottocentesco. Quindi è semmai un libro di struttura aperta, non saggistica, insomma. Sì, quindi anche dal punto di vista letterario, stilistico, di ricerca di linguaggio, cioè di discorso, proprio al di là dei contenuti, proprio di discorso di struttura, di stile, è un romanzo straordinario. Straordinario e molto bello. Ora, io ritengo che l'osservazione, questo tipo di osservazione, beh, l'importanza del romanzo, soprattutto i suoi contenuti, mentre dice formalmente è un brutto romanzo, è un idiota romanzo, sia assolutamente strumentale contro i contenuti del romanzo. Sì, sì, cioè un testo polenico, diciamo. Sia di parte, cioè sia... Che, tra l'altro, questo tipo di osservazione parziale dura tuttora, cioè dura anche oggi, presso molti specialisti di oggi, anche italiani e non solo... Si continua a dire che è un libro faticoso, diciamo. Si continua a dire che è un libro, anche perché tra l'altro si conosce, ahimè, soprattutto, si è conosciuta in questi anni, soprattutto per l'edizione orrenda di Garzanti. Certo, certo, una versione assolutamente scorretta, insomma. Manipolata, tagliata, che era quella stata pubblicata nel 1906 nella biblioteca Amena, cioè... Di Treves, se non sbaglio, sì. Mentre questa che abbiamo suggerito mi pare assolutamente corretta, non solo è integrale, ma è fondata sull'edizione critica, tra l'altro. Tra l'altro, Dio Abrogio aveva già pubblicato questa edizione, se non mi sbaglio, nell'immediato dopoguerra, per Laburo, se non mi sbaglio. e questa ultima edizione di Torri Uniti è fatta sull'edizione diciamo definitiva del 75, del 1975, pubblicata a Mosca. A Mosca, l'edizione critica, così. Questa di Ambroio è uscita nel 77, quindi direi che è proprio l'occasione ideale. è proprio il frutto di un'operazione dal punto di vista filologico. Molto rigorosa. Molto rigorosa, sì. Avete sentito con l'aiuto di Serra che è la persona più qualificata a parlarne avendo vissuto, convissuto con questo libro per mesi e mesi e avendo realizzato questa bellissima edizione televisiva. Adesso possiamo dirlo perché l'avessimo invitato a parlare di questo libro qualche settimana fa c'era la legittima sospicione che facessimo pubblicità a una produzione della televisione per di più di questo stesso canale. Ora che invece l'avete vista possiamo parlarne liberamente. Cosa che non sarebbe guastato. Ma ha avuto molta fortuna lo stesso anche senza il nostro aiuto. Si tratta quindi di una traduzione molto rigorosa su un testo molto rigoroso e di un libro estremamente importante. Vi invitiamo caldamente a leggerlo. Grazie molto dell'aiuto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.